filma filma o quando arrivi o quando vai via e fai le cazzate ho visto lui in verticale sulla ho detto no aspetta che torno indietro giusto filmati migliori quando arrivi o quando vai via questo sul sasso lui in verticale la in cima no non l'ho fatto in tempo l'ho visto da lontano sono venuto qua quello lo fa quello che viene qua col vertigo che fa l'italiano però è un po troppo cattivo non è non è il problema che è su in alto se sbagli che sei su in cima ti fai male perché alla fine è accompagnato però devi arrivare su bene e buttarla là troppo troppo impegnativo troppo lento troppo lento e tocchi all'ultimo dopo non ti viene su ma sei fuori no perché quello è facile che gli da e se sbagli ti ammazzi però usa il sasso qua sotto usa questo quando arrivi lì fallo più di qua tu lo fai tutto di là non ci proverei ma neanche non è il top eh bravo poi se guardi il video vedi che il dietro ha picchiato sul sasso che ti ho detto sembra una stupidaggine ma è quello eh la picchiata giusta questo è lo stesso devi sempre usare questo eh perché sennò non vai su bisogna usare l'invito tutto lì è semplice eh perché è facile perché accompagnato il problema è che quando arrivi su devi avere il pelo poi di buttarla avanti perché se sbagli quando sei su così ti ammazzi eh eh ma non è facile eh cioè lui l'ha fatto così eh cioè della sera aperta è andato ma se sbagli cioè torni giù con la testa qua eh è più facile di tanti altri Sì è vero cioè mi sembra almeno sembra terra Grazie a tutti.